I frati Cappuccini, venerdì 25 marzo alle ore 17, dal santuario di Padre Pio, si uniranno in preghiera a Papa Francesco per la celebrazione della penitenza, durante la quale alle 18.30 vi sarà l'atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria, della Russia e dell'Ucraina. A seguire la Santa Messa. Grazie a tutti.